Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Around the Table. Oggi andiamo un po' off topic per sederci attorno al tavolo ed aprire insieme il calendario dell'avvento LEGO Star Wars. Da oggi e per i prossimi 24 giorni apriremo insieme una casella ogni mattina e vedremo cosa contiene. Speriamo di farlo ogni mattina. Quindi sediamoci attorno al tavolo e cominciamo con il giorno 1. E allora andiamo ad aprire la prima casella del calendario dell'avvento e vediamo cosa troveremo. Questo è uno sguardo iniziato con quello che possiamo trovare. Ci sono anche come funziona il calendario dell'avvento, non c'è bisogno di spiegarlo. E andiamo ad aprire. Allora, la prima casella è questa. Andiamo piano piano e con calma ad aprire la casella senza romperla troppo. Ok, ci troviamo. Uno speeder, qui ci sono le istruzioni e qui c'è la bustina. Allora, andiamo ad aprire. Allora, andiamo a vedere. Ecco ci siamo ed ecco il primo pezzo di questo calendario dell'avvento Lego Star Wars che andremo a posizionare nella sua casella per il momento fino a quando, al prossimo giorno, non domani, andremo ad aprire la seconda casella che è qui. Quindi ci rivediamo in questo speciale di Arandotable sul calendario dell'avvento Lego domani. Ciao ciao!